E' meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose. Con umiltà vi presento il missile gerico. Alla pace! Tony Stark. Ora tu lavori per me. Cosa stai costruendo, Stark? Agli occhi rossi, lacrime per il suo capo scomparso. Lacrime di gioia. Odio cercarmi altri lavori. Eh, la vacanza è finita. Bentornato a casa, signore. Che cosa è successo laggiù? Ho aperto gli occhi. Voglio proteggere le persone che ho messo in pericolo. Un uomo con una dottina di questi regnerebbe su tutta l'Asia. Sì, posso volare. Vediamo se il giocattolo funziona. L'aggiornamento è stato completato. Sai che ti dico? Aggiungici un pizzico di rosso fuoco. Maledizione. Stammi dietro. Ma che succede qui? Guardiamo in faccia la realtà. Mi ha visto fare cose peggiori. Non ti speculano sul fatto che io me ne vado in giro a fare il supereroe. Io non sono certo un eroe. Mi pare evidente. Sapevo che l'avresti detto. Qualcun altro sapeva che l'avrebbe detto. Allora Questa è un saluto. Allora Questa è un saluto. Grazie a tutti.